La sicurezza stradale, in particolare dei pedoni, è una delle priorità da sempre di questa amministrazione. In questo caso stiamo realizzando un attraversamento pedonale protetto, sul modello di quello già realizzato in Via dei Mille, che consentirà al pedone di attraversare in Via San Vito in piena sicurezza. A questo intervento seguirà un'altra opera importantissima e attesa da tantissimi anni dai residenti di Masnago, la realizzazione del marciapiede in Via Crispi, per un lunghissimo tratto di 300 metri, dove oggi non c'è nulla e quindi il pedone è maggiormente esposto ai rischi del transito veicolare.